Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo video del server free un video però molto importante e un video anche di aggiornamento allora come sapete appunto molti quelli che hanno giocato il server diciamo andava bene per un primo periodo poi ha cominciato ad esserci qualche errore quando ho comprato diciamo le prime mode poi pensavo fosse diciamo la pronto 26 che ho letto nel file dava qualche errore però diciamo poi gli errori sono intornati quindi l'altra sera cioè ieri sera io e Terry ci siamo messi a fare test su test prove su prove poi abbiamo riscontrato che praticamente il problema non sono delle mode ma anche perchè il file log quello di farming che praticamente è il file che dove vengono scritte diciamo tutte le mode caricate eventuali errori eventuali warning eccetera eccetera mentre le mode erano sane nel senso c'era qualche mode che faceva qualche errore tipo per esempio c'è il ravizza che fa una bella filetta di errori però l'ho usato in tutta la vecchia serie e nella serie americana non ci ha dato problemi bensì però il problema appunto è della mappa stessa in quanto se viene trebbiato adesso non mi ricordo se sia il praticamente se sia avete fatto i mezzi praticamente il salvataggio vecchio non so se sia il rogen oppure il il dinkel che se trebbiati lasciano quella paglietta stupida a terra e quella fa andare in casino tutto ciò era già successo perchè ne abbiamo diciamo già già trebbiati un paio adesso sto appunto guardando anche qua vedete dinkel si in teoria dovrebbe essere dinkel quello quello tra virgolette problematico che appunto rompe le scatole essendo che l'abbiamo già trebbiato in effetti il periodo è quello comprando le barre multifruit abbiamo potuto trebbiarlo ed ecco che ha creato questo errore quindi avviso importante a tutti il server sarà ancora aperto su questa mappa ma assolutamente non seminate il dinkel cioè nel senso multifruit tranne carote e quelle altre cose nel caso dovesse risuccedere un'altra cosa anche se magari non è stato trebbiato io andrò a vedere l'ultimo frutto che è stato trebbiato diciamo oltre appunto al dinkel e comunque la mappa basta avrà tolta avrà messa la canna da map che comunque non è male i maiali ce li ha lo stesso a dire ha i beef anche forse magari un po' più piccolini a gestire però insomma purtroppo la mappa è bella però se mi crea questi errori anche dalle galline ragazzi le uova non si vedono il capanno qua il capanno qua niente dentro qui uova non ce ne sono nel senso che appunto nel lungo andare giocando siamo accorti che appunto ci sono questi errori che purtroppo per esempio anche le galline adesso cosa facciamo le uova vabbè dici chi se ne frega però per esempio non c'è né uova né niente in più il multifruit mi crea questo problema sperando non ci siano anche altre perché magari cioè non abbiamo provato anche le carote e quelle cose lì perché uno pensa che funzionino anche il tempo non ce n'era tanto e quindi quindi niente ecco ci sono appunto questi frutti qua che fanno che rompono le scatole praticamente fanno sparire tutti i mezzi come se fossero venduti in teoria dovrebbe essere questo campo qui che fa la paglietta stupida a terra adesso non potrei anche mettermi a provare ma in teoria è questo e se non questo è l'altro frutto quindi insomma ecco di non sunflowers va bene le carote vabbè ancora non ce le abbiamo cioè fate tutto tranne il dinkel la password è cambiata è stato aggiunto diciamo un numero alla fine in descrizione in modo che tutti appunto devono ascoltare il video e in modo da trovare la password perché uno dice vado sulla descrizione la prendo però insomma se uno ha un po' di testa e un po' di cervello questo video non è per niente ecco anzi è molto importante anche perché se io becco uno che semina il sto cazzo di dinkel e lo trebbia io prendo il server e lo chiudo proprio nel senso no cambio mappa lo chiudo quindi sta anche a voi che giocate controllare diciamo che non vengano seminati né rogen né scusate né rogen né dinkel gli altri si se poi li succede allora li cambio mappa ma almeno questi due frutti qua che praticamente sono dove sia la seminatrice praticamente sono dinkel e rogen che vedete le due spighe ecco non seminatele anche se magari è solo uno dei due per esclusione diciamo per non sbagliarci adesso non mi ricordo i test che abbiamo fatto ieri sera ecco non seminateli bene quindi direi che anche per questo video importante è tutto se si verificano nuovi errori canadamap che vi darò il link io perché deve essere modificata perché ha l'appassimento e parca puttana ciao a tutti se riesco ancora essere vivo ciao a tutti alla prossima ciao 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 a tutti ciao a tutti